Questi scatti ci arrivano da alcuni telespettatori riguardano il parco del Pionta ad Arezzo, attualmente ancora chiuso ai cittadini per evitare assembramenti. Come nel caso nella zona di Campo di Marte dove qualche giorno fa è accaduta una rissa e dove lo spaccio e il consumo di droga avveniva ed avviene ad ogni ora del giorno, anche nel parco del Pionta evidentemente c'è chi riesce ad accedere e trovare persino un rimedio per la notte. È grande la rabbia di coloro, soprattutto residenti nella zona di via Masaccio, che ci hanno sottoposto questi scatti perché proprio in questo momento viene chiesto ai cittadini un forte senso civico, poi però l'area verde si presenta così, riconquistata evidentemente da persone dedicate a giri poco piacevoli. Dalla zona di Campo di Marte ci arriva invece un feedback positivo da parte dei residenti, stiamo vedendo finalmente la presenza delle forze dell'ordine, ci dice un cittadino al telefono che in questa zona funge da importante deterrente nei confronti di coloro che invece si erano riappropriati di questa area per lo spaccio e il consumo di droga. Speriamo che questa presenza sia stabile nel tempo. In realtà sono alcuni giorni che la polizia locale insieme alla polizia di Stato sta facendo azioni mirate proprio su Campo di Marte, proprio per combattere questa piaga dello spaccio diciamo che c'è durante tutto il giorno e sono state fatte anche dei fermi significativi, quindi intensificheremo comunque controlli ma non è che siamo fermi e ce ne eravamo scordati. Circa le foto con il degrado, io non le ho viste, le ha viste il comandante, mi riferisce che quelle foto quasi sicuramente non sono del pionta, comunque sono nella parte non recintata del pionta perché nella parte recintata è chiusa e la recintione viene controllata tutti i giorni e non è stata una non messa, quindi chi ha fatto quelle foto non poteva essere dentro il pionta altrimenti lui stesso ha superato la recinzione, quindi sono state prese altrove. Ciò non toglie che l'area sia attenzionata in maniera particolare però all'interno di quella che è l'area recintata non ci risulta ci siano né presenze né degrado, è chiusa, quindi in realtà non sappiamo nemmeno come esattamente si trovi. Sicuramente sarà lo stesso e nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo lasciata quando abbiamo chiuso tutta l'area, perlomeno quella comunale che è recintata.